Signori miei che si tratti di un amichevole, di un quarto di finale valido per i campionati europei, che si tratti di una finale per il terzo posto dell'ambitissima si fa per dire National League, quando incrociamo il Belgio, quando incrociamo i Belgi e raramente queste ultime ci fanno le scarpe, è già questo è un attestato importante, ma quello che lo è più di tutti ragazzi è l'atteggiamento della squadra azzurra. L'atteggiamento a me piace tantissimo perché questa è una squadra che oggi confermo ulteriormente e non è che poi ci volesse un'ulteriore prova, non ce ne volevano un'ulteriore prova perché già quello che ci hanno mostrato questi ragazzi che hanno ottenuto 37 risultati utili consecutivi, questo è un numero che va ricordato, che va ricordato e ogni volta va lì, va messo come attestato pubblico di quanto fatto. Ripeto, con questi numeri non c'è poi da confermare nulla, non c'è nulla da confermare, però ancora una volta ci danno modo di capire perché questi ragazzi poi hanno ottenuto così tanto. Perché? Perché si divertono quando giocano insieme, è anche oggi una partita che onestamente non valeva nulla, cioè medaglia di bronzo, National League, tutto quello che vi pare, come ha detto Courtois, io sono d'accordissimo con lui. Una gara che non aveva nulla, nulla, nulla da dire. Appunto per questo ragazzi va premiato ulteriormente l'atteggiamento degli azzurri perché a parte i minuti finali dopo il 2-0 lì andrei a rivedere qualcosino, ma per come sono entrati in campo con quella voglia di fare bene, di andare anche oggi a vincere la partita, al di là degli interpreti nostri, al di là degli interpreti degli avversari, quello di fare bene, quello di giocare a calcio anche oggi e ripeto l'attestato più grande che poi questa nazionale poteva ancora una volta dimostrarci. Perché ribadisco, la gara di oggi mi interessa poco, mi interessa poco se abbiamo vinto, mi interessa poco se siamo arrivati al terzo posto della National League, quello che mi interessa è avere una nazionale che faccia divertire gli italiani e questa nazionale ancora una volta mi sento di dire che lo fa a pieno, lo fa a pieno ed è anche arrivato il momento di elogiarla, di elogiarla anche quando poi non si vince una competizione che possa essere nella National League, no? Ci faremo al terzo posto, tutto quello che vi pare, venivamo da una sconfitta contro gli spagnoli e ne abbiamo ampiamente discusso, ma una sconfitta che non cancella in alcun modo quanto fatto e ribadisco, vanno, vanno, ancora una volta vanno, va ringraziato uno che più di tutti ci ha creduto, Roberto Mancini e ragazzi, leggete voi stessi, leggete voi stessi, leggete voi stessi. Mancini è diventato l'allenatore più veloce a raggiungere il traguardo delle 30 vittorie con la nazionale italiana in tutte le competizioni, riuscendoci in 44 partiti, comandante, come dice Opta, comandante per davvero, perché qua ci ha portato a un trionfo importantissimo Roberto Mancini, ma più del trionfo in sé, più della vittoria degli europei, il riavvinicinamento, no? Ci sono state tante polemiche, io mi dissocio da tutte queste polemiche, quello che deve ancora una volta essere condiviso è veramente la gioia e comunque la condivisione che questa nazionale, questi ragazzi hanno in qualche modo elargito a tutti noi, cioè ci hanno riavvicinato, ragazzi ancora una volta ci hanno riavvicinato alla nazionale, questa è la vittoria più grande perché non ne chiamolo, è tuttora, c'è chi ancora vede la nazionale come un corpo estraneo e non li certobiasimo, ognuno ha la sua visione, però appunto per questo ci hanno riavvicinato, ragazzi ci hanno riavvicinato e questa è la vittoria più grande, quindi veramente complimenti a Mancini e complimenti agli azzurri e complimenti anche per la vittoria di oggi con l'atteggiamento giusto perché ripeto questa è una squadra che voleva vincere la sta partita, nonostante non valesse una mazza, io ribadisco non vale una mazza, la volevano vincere e la vinciamo con l'atteggiamento giusto, giocando a calcio, uscendo bene palla al piede, belle azioni, bei cambi di gioco, un'Italia che fa divertire, che piace, che qualcosa concede, agli avversari abbiamo visto oggi tre legni, sicuramente sì, non c'erano tutti gli interpretati a disposizione da una parte e dall'altra, è vero che loro erano senza Lukaku, inizialmente senza De Bruyne, senza Zarr, ma noi dal canto nostro eravamo senza Giorginio, senza Chiellini, senza Insigne, quindi da una parte e dall'altra alcune assenze, ma chi va in campo va per fare bene, va per fare bene, vedi Berardi, vedi Pellegrini che è un altro giocatore che fa benissimo a questa nazionale, siamo contenti di abbracciarlo, benissimo così, vedi Chiesa che ogni volta che giochi in azzurro, ragazzi, come lo fa per la Juventus, non disdegna il massimo impegno, anzi, strappa, 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 vedi Barella che ha fatto un gol incredibile, un gollasso, ragazzi, bellissimo, il gol di Barella è una cosa speciale, è una roba bella, 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 un gesto tecnico clamoroso, può sembrare facile, ma non lo era, e vedi, vedi questi ragazzi che, ripeto, fanno bene e giocano, giocano, anche oggi abbiamo giocato bene, abbiamo giocato bene la palla contro un ottimo avversario, ragazzi, poi sul 2-0, bravo Chiesa a procurarsi il rigore, è stato molto bravo di Chiesa, molto bravo anche nel primo tempo, belle azioni, già nel primo tempo potevamo fare molti golli, ed è finita 0-0 nel primo tempo, è vero che loro hanno preso la traversa, ma noi abbiamo avuto tante occasioni, non l'abbiamo buttata dentro, anche a merito di Courtois, che ha fatto una parata in mani, monumentale, su Chiesa, su Chico Chiesa, ha fatto una parata monumentale, però poi nella ripresa siamo stati cinici, spietati, due gol, mi è piaciuto meno lì, ma forse lì ci può stare, no? Staccare mentalmente sul 2-0 in una partita, come ho detto prima, che aveva poco, aveva poco da dire, ci può stare quella di staccare la spina, io non gradisco, non gradisco, devo essere sincero, quando una squadra stacca la spina, prendo un gol banale su un calcio d'angolo a favore, non gradisco, per oggi dico anche che ci può anche stare, ecco, questo devo essere sincero. E quindi finisce 2-1. Ma che dire ragazzi, penso di aver detto tutto, troppe polemiche, troppe scemenze in questi giorni, godiamocela a questa nazionale, godiamocela a tutto tondo, godiamocela a tutto spiano, perché davvero questi ragazzi, questo comandante, come ho detto prima, Roberto Mancini, ci ha avvicinato a questi ragazzi, ci ha avvicinato a questi giocatori e ci aspettiamo anche, perché no, un mondiale da protagonisti, dove bisognerà fare anche qualcosa di diverso, dove non bisognerà coccolarsi, crogiolarsi, se vogliamo, con i risultati ottenuti, perché poi abbiamo visto che ci sono squadre che quando impongono il loro calcio e tu non fai qualcosa di diverso, vedi la Spagna, lì vai molto in difficoltà, quindi prepariamoci anche a dover affrontare avversari magari anche in altri modi, perché sul giocare a calcio non abbiamo problemi, ma quando incontriamo determinati avversari bisogna anche proporre forse qualcosa di diverso ogni tanto. Detto questo, bravi, bravi, veramente bravi tutti, e che dire ragazzi, stasera comunque ci vediamo alla finale, se volete iscrivetevi al canale, così arriva la notifichina per la finale, se volete ascoltare il mio commento. Intanto apprezzerò i vostri sotto il video. Va bene? Un grande abbraccio e ragazzi, anche oggi col belgio, vinciamo noi. Grandi, grandi, grandi.